Ok ragazzi, siamo nella palestra di Mirko Geografo. Come promesso per i 10.000 iscritti faccio uno sparring con Mirko Geografo e Simone Giorgetti. Poi ragazzi, se entro due anni raggiungiamo 100.000 iscritti, è una cosa impossibile, appunto la dico, torno a combattere, mi mancherebbero altri 2-3 anni di combattimenti, però solo se raggiungiamo 100.000 iscritti. Comunque oggi vediamo che succede. No, sono contento che il Valerio oggi è venuto perché dopo le lezioni che abbiamo fatto insieme e dopo avergli fatto queste tante mie tecniche, voglio vedere se l'ha preso bene e se riuscirà a sfuggire dal mio cancio stop one. Io mi scaldo un naso nel trattamento. Hai già preso le misure? Hai già preso le misure? Hai. Hai. Grazie a tutti. 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 Come on! 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 Grazie. 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 Allora ragazzi, eccoci qua, abbiamo finito questo sparring, io vi ringrazio per la fiducia che mi avete dato, me li sono scelti molto molto alla portata di qualcun altro, non alla mia, perché lui è un campione italiano due volte, campione internazione WBA, Mirko geografo ragazzi, se non lo conoscete abbiamo pure fatto i piedi insieme, lui è Simone Giorgetti ragazzi, cioè campione WBC FP, peso super belter, sono due campioni, io ragazzi sono un tecnico, la tecnica la conosco, ma fra conoscerla e poi applicarla, insomma ci passa tantissime ore di allenamento, di sparring a questi livelli che non ho mai fatto e quindi eccoci qua, il risultato è stato quello, spero comunque che vi siete divertiti, se vi siete divertiti fatemelo sapere, se raggiungiamo un bel numero, quindi direi tipo mille like, io rifaccio con loro e con altre due professionisti che magari vi indicherete voi, quindi ci siamo è sicuro, è dura per te, l'ha detto lui ragazzi, anche le vecchie leere ragazze, possiamo riportare tutti, felicissimo di avere di nuovo qua, grande, anche Simone, grande, ci aiuteremo in uno sparring, assolutamente, poi potete vedere anche Simone a breve che combatti, il 7 d'agosto ragazzi, su Rai Sport, facciamo un rientro post covid, speriamo nel migliore dei modi, esatto, e tiriamo tutti per lui, a presto ragazzi, al prossimo video!